Un social bond a sostegno del Calcit si tratta di un nuovo prestito obbligazionario emesso da Ubi per un ammontare complessivo di 5 milioni e 475 mila euro finalizzato al sostegno di iniziative di elevato valore sociale. Far banca per bene vuol dire aiutare il territorio e in questo caso quello che facciamo oggi è aiutare le persone e direi che è una grossa opportunità per Arezzo e provincia perché permette di far sì che si possa fare prevenzione e quando si fa prevenzione in questo caso che si tratta di lanciare un social bond dove parte verrà utilizzato a fondo perduto e parte con un finanziamento agevolato, per andare a finanziare l'acquisto di macchinari ad alta tecnologia per il test diagnostici per il tumore alla mammella. L'istituto di credito infatti sosterrà il comitato a retino nell'acquisto di nuove apparecchiature di screening con un finanziamento agevolato di 475 mila euro a cui si aggiungerà un'erogazione liberale che potrà arrivare fino a 25 mila euro in caso di sottoscrizione dell'intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto dell'offerta. L'appello agli aretini è di sostenerci in questo progetto perché andrà sicuramente ad aumentare il benessere delle donne perché attraverso queste indagini avremo veramente un salto di qualità importante. Si tratta di un mammografo digitale di ultima generazione che è dotato di modulo di tomosintesi il quale consente di effettuare degli esami mammografici evitando i fenomeni di sovrapposizione dei tessuti. Quindi in ultima analisi abbiamo un incremento della detection rate, cioè della capacità di rilevare i tumori e soprattutto i tumori di piccole dimensioni.